allora facciamo la decontaminazione dell'auto da ferro questo il prodotto poi si diluisce con questo diluitore parte rossa metti il prodotto e la parte bianca tutto acqua vedi c'è scritto H2W e quello diluisci in base alle tue esigenze poi dopo aver sciacquato l'auto ovviamente e non essendo al sole spruzzo il prodotto poi quando reagisce diventa tutto viola dopo un po di tempo reagisce vedi tutto questo viola che c'è qua per terra sono tutte particelle di ferro che ha sciolto guarda sta già reggendo vedi tutto questo viola tutte particelle di ferro che non vanno via con un lavaggio normale con lo shampoo lo spruzzi semplicemente aspetti quei 5-10 minuti che reagisce e dopo risciacqui semplicemente l'auto faccio anche il cerchio che qua si vede subitissimo che c'è il ferrodo delle pastiglie guarda sta già diventando viola quelle sono tutte particelle di ferro vedi guarda tutto questo viola è tutta decontaminazione e questo col tempo se no io la fai tipo diciamo far spegnere la brillantezza dell'auto perché sono particelle che si attaccano all'auto tutto questo viola si vede benissimo quando finisce la bomboletta vuol dire che è finita vedi che è tutto viola vedi tutte particelle di ferro bene io ho fatto tutta l'auto fra 5-10 minuti la risciacquo e ciao a tutti